salve traders come va qua con voi eri munos in lion bull academy andiamo oggi a parlare della di un indicatore maniera facile più facile possibile delle mezze mobili va bene la mezza mobile ve lo faccio ve lo spiego velocemente perché non so neanche fare un video troppo grande e neanche andare troppo in dettaglio sono veramente cosa serve come utilizzarlo nella maniera più veloce e semplice possibile allora la mezza mobile sarebbe dire come dice mezza vita o movina verace in inglese vi dà una una media media mobile forse si ci meglio in italiano non mi ricordo non sono sicuro vabbè la media mobile o mezza mobile vi dà il prezzo in media il movimento del prezzo in un determinato periodo sarebbe a dire ve lo spiego veloce se noi andiamo per esempio qua in etoro studi 2 e mettiamo la media mobile o mezza mobile e li mettiamo periodo 50 sarebbe a dire che ti calcola la media di movimento del prezzo delle ultime 50 candele bene quello da tenere in considerazione ma se mettiamo per esempio 20 calcolerebbe il movimento delle ultime 20 candele minore sono le candele che calcola più veloce si vedrà il movimento disegnato nella media mobile o mezza mobile e poi qua nella zona field abbiamo differenti tipi da guardare per esempio il prezzo close ci guarda solamente il prezzo di chiusura di quelle candele il prezzo open ci guarda solamente il prezzo di apertura della candele il prezzo più alto nel high il prezzo più basso nel low e poi ce ne sono tante diverse più da guardare quelle ve le guardate tranquillamente ho detto questo è un video semplice non voglio andare troppo in dettaglio per esempio e andiamo mettere la mezza mobile la moving average la media mobile di 50 periodi semplice perché sono altri tipi per esempio c'è la semplice esponenziale la weighted questi sono tutti differenti algoritmi sono tutti differenti algoritmi e per calcolare la media che si utilizza in questo indicatore le più utilizzate sono semplice esponenziale e weighted quelle sono le più utilizzate però si possono utilizzare anche altre andiamo per esempio mettere la semplice che quella più utilizzata al momento la lasciamo di colore rosso possiamo cambiare se vogliamo però lasciamo il rosso scuro dai e la creiamo questa è una media mobile o mezza mobile quello che ci fa vedere adesso vi spiego come si utilizza e cosa ci fa a capire ci può far vedere se il prezzo reale è molto vicino alla media mobile ci può dire che siamo come si fa vedere in questo caso qua in una zona di laterale se il prezzo schizza sopra al di sopra della mezza mobile più sopra va possiamo capire che a che quanta forza c'ha il movimento adesso per esempio in questa zona qua siamo al primo impulso al rialzo al primo prima salita forte più lontani siamo dalla mezza mobile dalla media mobile più forte è il movimento più vicini siamo si può dire già ci può far capire che siamo in correzioni quando il movimento e la direzione della mezza mobile comincia a scendere ci fa capire quando siamo in correzione ci fa capire quando siamo in tendenza al ribasso al rialzo va bene tutto dipende dalla dai periodi dalle candele che vogliamo studiare in quel momento per esempio quella è una delle forme che si può utilizzare la seconda forma che si può utilizzare si può utilizzare come per esempio stop loss si può utilizzare come target si può utilizzare come supporto resistenza perciò c'è un indicatore molto molto versatile possiamo anche aggiungerlo ad altre mezze mobili per esempio andiamo a crearne un'altra una un po più veloce in questo caso mettiamone una di 20 periodi e la mettiamo di colore verde allora adesso questa di colore verde ci fa vedere il movimento delle ultime 20 candele come potete vedere è un movimento più veloce e più vicino al prezzo più le facciamo calcoliamo meno candele più vicino sarà del prezzo per esempio andiamo a mettere un'altra a 10 10 10 e la mettiamo questa di colore blu creiamo come vedete già quella di 10 periodi è veramente attaccata al prezzo però anche questa ci fa vedere la velocità in velocemente cosa sta succedendo col prezzo in una maniera più semplice e le più utilizzate di medie mobili mezze mobile sono quella da 20 25 si potrebbe anche utilizzare 50 100 150 e 200 quelle sono le più utilizzate normalmente le utilizzano per vedere la forza che ha il movimento e anche zone di possibile dove il prezzo potrebbe fermarsi se per esempio il prezzo sta scendendo con molta forza normalmente tende sempre a toccare la mezza mobile a risalire in quel punto perciò possono essere anche buoni punti di entrata se volete sapere di più su strategie utilizzando mezze mobile dentro qua nel canale di lion bull academy avete la playlist di la biblia delle strategie dentro ci sono tantissime strategie ci sono molte che spiegano le mezze mobile o medie mobili perciò ve lo guardate e vedete se c'è qualcuna che vi piace e potete utilizzare però già sapete adesso velocemente e facilmente cos'è una mezza mobile e come viene utilizzata in maniera semplice ok spero vi sia piaciuto il video qualsiasi dubbio me lo commentate al di sotto dai ciao ragazzi